Ma se si prende una fiaba classica e ci si introduce una parola nuova, ecco un altro binomio fantastico. Per esempio, capucetto rosso e giostra, oppure capucetto rosso e tram. Ecco che la fiaba di capucetto rosso è obbligata a cambiare per incorporare questa giostra o questo tram. Forse sarà il lupo che va in tram o la nonna che va in giostra. E così si mette in moto la fantasia provocandola. Il paese senza punta Una storia di Gianni Rodari con illustrazioni di Andrea Castellani Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia una volta capitò in un paese dove gli spigoli delle case erano rotondi E i tetti non finivano a punta, no, ma con una gobba dolcissima. Lungo la strada correvano a siepe di rose e a Giovannino venne lì per lì l'idea di infilarsene una all'occhiello. Mentre coglieva la rosa faceva molta attenzione a non pongersi con le spine. Ma si accorse subito che le spine, no, non pungevano mica. Non avevano punta e parevano di gomma. Anzi facevano proprio il solletico alla mano. Ma guarda, guarda, disse Giovannino ad alta voce. Proprio in quel momento di dietro la siepe si affacciò una guardia municipale sorridendo. Ma non lo sapeva che è vietato cogliere le rose? Eh no, mi dispiace, non lo sapevo, non ci ho pensato. E allora pagherà soltanto mezza multa, disse la guardia, con quel sorriso che avrebbe potuto benissimo essere l'omino di burro che portava Pinocchio al paese dei balocchi. Giovannino osservò che la guardia scriveva la multa con una matita senza punta e gli scappò di chiedere, scusi, mi fa vedere la sua sciabola? Volentieri, disse la guardia e naturalmente nemmeno la sciabola aveva la punta. Ma che paese è questo? domandò Giovannino. Ma è il paese senza punta, rispose la guardia con tanta gentilezza che le sue parole si dovrebbero scrivere tutte con la lettera maiuscola. Ma scusi, per i chiodi come fate? Ah, i chiodi! Quelli li abbiamo aboliti da un pezzo. Noi facciamo tutto con la colla. E adesso, per cortesia, mi dia due schiaffi. Giovannino spalancò la bocca come se dovesse inghiottire una torta intera. Eeeeee? Ma per carità, non voglio mica finire in prigione per oltraggio a pubblico ufficiale. I due schiaffi semmai dovrei riceverli, non darli. Ma qui si usa così, spiegò gentilmente la guardia. Vede, per una multa intera quattro schiaffi, per mezza multa due soltanto. Ma, 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 alla guardia! Sì, alla guardia! Ma è ingiusto! È terribile! Terribile! Certo che è ingiusto! Certo che è terribile! Disse la guardia. La cosa è tanto odiosa che la gente, per non essere costretta a schiaffeggiare dei poveretti senza colpa, si guarda bene dal fare niente contro la legge. Capisce? Su, mi dia questi due schiaffi e un'altra volta stia più attento. Ma io non le voglio dare nemmeno un boffetto sulla guancia. Anzi, le farò una carezza. Quando è così, concluse la guardia, dovrò riaccompagnarla alla frontiera. E Giovannino, umiliatissimo, fu costretto ad abbandonare il paese senza punta. Ma ancora oggi sogna di poterci tornare, per viverci nel più gentile dei modi, in una bella casetta con il tetto senza punta.